A poco più di due mesi dall'apertura, la mostra, che presenta i capolavori della Mellon Collection a Palazzo Zabarella, ha tagliato l'importante traguardo di 100.000 visitatori. La mostra propone in esclusiva per l'Italia oltre 70 opere di Degas, De La Croix, Monet, Picasso, Van Gogh, che celebrano Paul e Bunny Lambert Mellon, due tra i più importanti mecenati del Novecento. Più di 3.000 gruppi organizzati hanno solcato Palazzo Zabarella per ammirare i capolavori che coprono un arco cronologico che parte dalla metà dell'Ottocento fino a giungere ai primi decenni del Novecento.